Open Day all'Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta di Pozzuoli, diretta a Donatella Mascagna, una scuola che si rinnova e guarda all'Europa per valorizzare inclusione e internazionalizzazione. Le sedi dal 18 di gennaio saranno aperte ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid per permettere alle famiglie e agli aspiranti studenti di toccare con mano quelle che sono le attività svolte, tra l'altro sono in programma messi in scena teatrali in lingua staniera, performance musicali e laboratori d'arte, fotografia. Il programma continuerà a svilupparsi fino al 27 di gennaio nei vari ordini di studio.